Esperti e imprese hanno discusso della necessità di ridurre l'impatto climatico del gas nel corso della settimana per l'azione climatica di Baku, evento organizzato nella capitale della Azerbaijan in previsione della COP29, la 29esima conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a novembre. Da tempo scienziati e organizzazioni non governative chiedono che si agisca sulle emissioni di metano, gas che contribuisce in modo determinante all'aumento della temperatura media globale poiché, benché rimanga nell'atmosfera meno a lungo rispetto alla CO2, presenta un potere clima alterante decine di volte superiore. Le stesse organizzazioni non governative stanno monitorando le emissioni di tale gas al fine di comprendere se industrie e imprese stiano davvero rispettando le promesse avanzate in termini di riduzione negli anni scorsi. Diminuire la presenza di metano nell'atmosfera terrestre è infatti determinante per contenere la crisi climatica e conseguentemente i suoi impatti, che ormai sono sotto gli occhi di tutti in termini di eventi meteorologici estremi come ondate di caldo, di siccità, precipitazioni eccezionali e innalzamento del livello dei mari. Il settore energetico è responsabile di oltre un terzo delle emissioni di metano prodotte dalle attività. antropiche e la transizione energetica dalle fonti fossili a quelle pulite è dunque imprescindibile se si vorrà limitare la crescita della temperatura media globale ad un massimo di 1,5 gradi centigradi entro la fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali, ciò tenendo conto che il mondo è già attorno a 1,2 gradi di riscaldamento globale. Ogni decimo di grado al di là di tale soglia significa un aumento della frequenza e dell'intensità degli impatti su persone, infrastrutture, territori ed economie. Per effettuare la transizione però servono finanziamenti, per questo a Baku si è affrontato anche questo tema. L'obiettivo per la COP29 è di trovare un accordo per garantire i fondi necessari.